E' una partita come tutte le altre che ci aspettano, rimangono tante partite a giocare. Abbiamo vinto tre partite fino adesso e dobbiamo continuare su questa strada. Speriamo tutti a fare bene adesso domenica, è importante lavorare bene. Il Pisa è là in cima, davanti a tutti, ovvio che chiunque giochi contro l'Azzurri punti a dare il 150%. Sicuro, sicuro. Come noi puntiamo a fare la stessa cosa. Ci mancherebbe, noi dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri e dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino adesso. Secondo te quali sono le squadre che in queste prime quattro giornate hanno fatto vedere le cose migliori, oltre ovviamente al Pisa? Eh, sicuro. Non ce la faccio. In queste prime quattro giornate quali sono, oltre al Pisa, le squadre che secondo te hanno fatto meglio? Eh, Potendera sta facendo bene, ho visto che c'è una bella squadra, stanno facendo belli risultati. Tutte le squadre sono forti in questo girone, non si sa mai quale risultato può capitare. Secondo me, c'è Potendera, c'è Lecce che in questo momento sta facendo male, ma secondo me deve iniziare a fare i risultati. C'è pure Benevento, ci siamo noi. Vediamo un attimino adesso cosa succede nelle prossime partite.